www.redigio.it e la storia continua Tradizioni milanesi, il Gamba dell'Egn del 1879-1957 Luigi Chiodini ci ha raccontato le sue vicissitudini per raggiungere il posto di lavoro Vittorina De Giormi, come arrivare a Baggio da Mugiano Molte altre persone, dalle cascine varie o paesi limitrofi, raggiungevano in bicicletta il capolinea del tram 34 I cortili e i negozi di biciclette facevano da parcheggio ai ciclisti lavoratori Più fortunati erano coloro che abitavano a lungo tratto, via Novara, Magenta dove il trasporto era garantito da uno speciale trenino che si dirigeva direttamente in piazza Cairoli Di fronte ai grandi magazzini coin, in corso Vercelli, nel cortile del numero civico 33 Vi era la stazione del Gamba dell'Egn Fino al 1879 il tragitto tra Milano e il Magentino era coperto da una diligenza gialla Con un tiro a quattro Che per due volte al giorno partiva e rientrava da quella che ora è chiamata Piazza Conciliazione dove si trova la scultura metallica di Carlo Ramos Nell'agosto di quell'anno debuttò un trenino a vapore dalla società anonima Tramwai che andava e tornava dal Magentino creando grande opportunità per quella gente che per lavorare a Milano doveva alzarsi all'alba e raggiungere la nostra città con qualche carretto Il trenino percorreva Corso Vercelli, Via Belfiore, Piazza Wagner, Via Marghera, Piazza De Angeli, Via Parmigianino, Rubens, Rembrandt, Via Novara fino a Castano I Il 31 agosto del 1957 alle 9.15 il Gamba dell'Ein concluse la sua attività Corso Vercelli era stracolmo di gente a corsa a dare l'ultimo saluto all'amato Gamba che mai non si fermò neppure durante la guerra Luigi Marmonti e Luisin che guidava il Gamba quasi da una vita quel giorno si presentò con il vestito della festa e dopo aver deposto con cura la giacca sopra i massi di fiori che la folla gli lanciava al fisco del capo stazione salutò commosso la folla e avviò il Gamba dell'Ein per quell'occasione tirato a lucido per la sua conclusiva corsa